Oggi parliamo di roba generale della MotoGP e un pochino anche della gara di Sepang 2015. 22, 22, 22, 22, 22, 22. Prattiamo ogni argomento in maniera asettica. Quindi, primo argomento, questo video è sponsorizzato da NorVPN, che ringrazio. Se cliccate sul link qui sotto, norvpn.com slash talking helmet, riceverete uno sconto esclusivo sul piano biennale più 4 mesi gratis. Quindi, se vi serve una VPN, vi straconsiglio Nord e, inoltre, ovviamente, supportando loro, supportate anche me. Secondo argomento, la moto rotta di Marini. Altra gara buttata per un pilota perché un marchigegno che rovina le gare si rompe l'abbassatore. Già è successo svariate volte quest'anno alla maggioranza dei costruttori, se non ricordo male. E quindi, ma sarà il caso di levarli dalle scatole punto e basta? Ma perché vuoi sempre interrompere il progresso, le innovazioni? Ma per piacere. È robaccia semi-automatica che serve solo a ridurre il controllo che i piloti hanno in una particolare fase della guida. Nient'altro. Con quale beneficio, poi? Togliere qualche non ben identificato decimo al giro. Probabilmente uno, due o tre a seconda della pista. Quindi, wow, che rivoluzione. L'ingegno Ducati l'ha originariamente pensato e implementato e finché sei l'unico ad avere tale sistema ne trai giustamente beneficio. E così è stato. Adesso però siamo al punto che quel sistema l'hanno copiato tutti e lo usano tutti, sempre. Quindi il vantaggio è praticamente svanito. E allora che senso ha a cercare marginalissimi vantaggi nel sofisticarlo quel sistema? Nessuno. È ora di levarli tutti dalle scatole. Punto. Perché a parte il gommista, chi se ne frega se una gara dura 4 secondi in più o in meno? Nessuno. E invece a chi frega se i piloti hanno sempre meno controllo? A tutti. E adesso, ma tu sei un pilota? Ma tu guidi le MotoGP? Ma che ne sai? Allora top. Anch'io sarei per eliminarli. Tutti. E perché così ridiamo un pochino in mano l'uscita di curva un po' anche al pilota. Terzo argomento. Il sorpasso di Morbidelli. Penalità scandalosa, vergognosa, schifosa, merdosa. Ma la cosa che mi ha fatto veramente arrabbiare è la penalità che gli hanno dato. Perché secondo me non esiste. Non è corretto, non lo accetto. Forse sarebbe meglio stare a casa o venire qui a giocare a cap. Al netto di questo, è chiaro che se penalizzi Quartararo per il sorpasso di Assen e penalizzi Aleish per il sorpasso su Binder in Thailandia, devi penalizzare anche Morbidelli per il sorpasso a Sepang. Quindi penalità scioccante ma perlomeno consistente. Quindi brava Race Direction. Uh! Grande vittoria. Perché non sono d'accordo con quel tipo di penalità? Perché la prova del 9 per testare una regola è metterla di fronte alla situazione potenzialmente più scomoda. Quindi fate finta che quello era l'ultimo giro della gara. Aleish e Morbidelli a pari punti si giocavano il campionato e quella è stata la manovra decisiva. Ok? Bene. Con la Race Direction attuale, con la loro condotta attuale, il campionato l'avrebbero deciso degli incamiciati negli uffici, piuttosto che i piloti in pista. Questo è il primo danno collaterale dell'avere dei vigili urbani a sindacare su ogni minima cosa. Morbidelli passa sotto al traguardo prima del suo avversario diretto e vince il campionato, salvo che prima del podio arriva un pezzaccio di carta scarabocchiato con scritto... Ma! Penalità! 3 secondi! Vince l'altro! Così! A tavolino! Bello! E qui arriva uno e dice... Ma certo, è giusto! Se un pilota fa una manovra scorretta è giusto che venga penalizzato! Ehm, sì, sulla carta sì, il problema però è che significa scorretta. Dov'è la riga tra corretto e scorretto? Chi lo dice, cosa è scorretto e cosa non lo è? È tutto rimandato alla discrezione dei giudici. Come è anche adesso, per certi versi, la differenza però è che più spazio di manovra date ai giudici e peggio sarà. I piloti se la devono risolvere in pista da soli, quanto più possibile. Prendere una sportellata non piace a nessuno e quando la prendono si lamentano tutti, ma un giorno la prendi e un giorno la dai. Ecco l'unica regola. La race direction deve essere l'ultima spiaggia. Una roba lontana. Dovrebbe intervenire solo in casi limite. Perché i giudici per le gare sono la peste. Perché se no sapete che succede? I giudici ci prendono la mano e vi assicuro che a quel punto tanto vale chiudere i cancelli e farla finita. Ehm, sempre a farla tragica! Va bene, parliamone. Quattro mesi fa ad Assen, che diceva la gente? Quartararo penalizzato perché ha fatto un sorpasso troppo esagerato. Quasi fa cadere a Lesch ed è caduto lui. Penalità giusta. Passa un po' di tempo, arriviamo un mese fa in Thailandia. Che diceva la gente? A Lesch penalizzato perché ha fatto uscire di pista Binder. Ehm, penalità giusta, l'ha fatto uscire di pista. Arriviamo alla settimana scorsa in Malaysia, che diceva la gente? Morbidiali penalizzato perché? Che? Che ha fatto? Niente. Ha solo toccato a Lesch. Morbidiali penalizzato perché ha toccato a Lesch. Ecco la follia. Eccovi l'escalation. Questo è successo nel giro di quattro mesi. E ad ogni occasione, il limite si sposterà inevitabilmente un centimetro più avanti, fino a che non ci sarà più niente. Di questo passo, a metà del prossimo anno, avremo gare con più comunicati che sorpassi. È inevitabile. E i piloti non vanno assolutamente interpellati a riguardo, perché diranno quello che gli fa più comodo a seconda dei casi. A Lesch non avrebbe penalizzato il suo sorpasso su Binder in Thailandia, ma ha trovato giusta la penalità su Morbidiali a Sepang, guarda caso. Comunque, visto che ci siamo, l'altra volta non ve l'ho fatto vedere, ma adesso recupero, il sorpasso di A Lesch su Binder in Thailandia era regolare. Un contatto di gara normalissimo. Con il replay che avevano fatto vedere sembrava chissà che entrata avesse fatto, ora ve lo faccio vedere dall'onboard di A Lesch e dovete fare caso ad una cosa in particolare. Binder rimane nell'inquadratura per un bel po' mentre frenano, il che significa che A Lesch era sì interno e ad un certo punto si è buttato dentro, ma sono arrivati alla curva ad una velocità molto simile e A Lesch avrebbe fatto la curva anche senza appoggiarsi a Binder. Lo dico perché è sempre la prima cosa che si legge, no? Se non si fosse appoggiato non avrebbe fatto la curva. Palle. Guardate. Penalità assurda. E allora come la risolveresti tu la questione, genio di un casco? La risposta è che non c'è niente da risolvere, se la vedono i piloti in pista. Ecco la risposta. E volete analizzare la situazione specifica di A Lesch a Sepang? Benissimo. Ho preso gli onboard di A Lesch degli ultimi tre giri in questo pezzetto di pista qui, quello in giallo. La X segna il punto preciso del contatto tra Rossi e Marcus, no. La X segna il punto preciso del contatto tra A Lesch e Morbidelli. Ora, gli onboard di A Lesch in quel pezzetto ve li mostro in due salse diverse. I tre video sovrapposti a tutto schermo prima e i tre video in colonna poi. Il risultato comunque non cambierà, la morale della storia è che A Lesch ha fatto quel tratto di pista in maniera identica negli ultimi tre giri. Fino al contatto con Morbidelli, logicamente. Guardate. La 12 a sinistra. Poi la 13. Poi quasi 14 e arriva la botta. Se ve lo stoppo a metà curva, vedete che fino ad un attimo prima del contatto i tre giri sono praticamente identici. Combaciano. Guardate i pali, guardate i cordoli, guardate un po' il tutto in generale, le differenze sono minime. Adesso i tre video li separo e ve li incolonno, stessa storia. Sinistra la 12. Destra la 13. Quasi la 14 e boom. Anche qui, se ve lo stoppo ad un momento prima del contatto, forse si vede ancora meglio che le tre traiettorie erano identiche. Quindi A Lesch all'ultimo giro non era assolutamente largo e ha fatto la sua traiettoria, diciamo, normale. Questo potrebbe sembrare un dato a suo favore, invece è il contrario. Questo dato dimostra che A Lesch, alla penultima curva di un gran premio, con un avversario dietro, ha fatto la sua traiettoria ideale, come se fosse da solo. E questo è da polli. E Morbidelli, in maniera sporca perché questo è innegabile, ha preso e l'ha infilato. Sorpasso migliore del mondo? Assolutamente no. Sorpasso sporco è da evitare quanto più possibile, ma è un sorpasso. Non è un attentato. E la morale è che A Lesch la prossima volta all'ultimo giro si difende, invece che girare come se fosse da solo in pista. Problema risolto. Quarto argomento. Le ali. Discorso molto semplice. Le ali vanno ridotte, ridimensionate, limitate pesantemente o anche smartellate e spezzettate. Perché ditemi voi se è possibile che delle moto vadano in giro con degli spunzoni davanti, che sono baionette. I piloti sono esposti, non sono seduti dentro alla moto, sono seduti sopra. Le ali sono pericolose per il corpo del pilota in caso di contatto. Quindi via. Discorso chiuso. Quinto argomento. Gli ordini di scuderia Ducati. Non sono mai esistiti, tanto meno a Sepang. Il problema però è che sono stufo di stare dietro alle chiacchiere e cercare di spiegare i perché sì, perché no, delle mille ipotesi. Perché non ne posso più. Quindi adesso in maniera molto sintetica vi dico la mia lettura di quanto è successo a Sepang e di tutto il resto non me ne frega niente. Tutta immondizia per come la vedo io. Ora, gli unici ordini di scuderia che ho visto fino qui, ordini nel senso fondamentale del termine, sono stati quelli Yamaha a Phillip Island. Quartararo era rientrato in pista dietro a Kaal e Binderino e il team ha subito mandato i messaggini con scritto Quartararo dietro, che significa spostati e fallo passare. E così hanno fatto. Che siano arrivati mentre erano in fondo al gruppo conta poco. Un ordine di scuderia è un ordine di scuderia e quello lo è stato. La cosa divertente è che una delle accuse più ricorrenti a Ducati è stata quella di aver impartito ordini ai team satellite, quindi ordini di marca piuttosto che ordini di team. Ecco, la Yamaha ha fatto esattamente quello e fa abbastanza ridere. Comunque, la Ducati, anche a Sepang, ha affrontato la gara come ha affrontato tutte le altre. Cioè mettendo immensa pressione a tutti i suoi piloti riguardo il non buttare per terra Francesco. Nient'altro. E tutto il teatrino di Tardossi, Ciabatti e Dalligna, avanti e indietro, è stato proprio figlio del fatto che gli ordini li avrebbero dati, si sarebbero macchiati del peccato originale, ma non ce n'è stato bisogno. Stavano proprio discutendo l'eventualità di darli, ma non li hanno mai dati. La benedetta tabella di Bastianini con scritto Francesco non era altro che l'ennesima raccomandazione. L'ennesima pressione a Bastianini, che ovviamente in un momento concitato della gara come era quello, è molto pesante per un pilota. Non sto nascondendo questo. Perché quella scritta sulla tabella, metaforicamente, è tutta la dirigenza Ducati, tutti e quattro, accovacciati sulle spalle di Bastianini che gli bisbigliano nelle orecchie, attento Francesco, attento Francesco, attento Francesco. Ma non è un ordine di scuderia. È una minaccia velata, del tipo, se butti per terra Francesco ti svitiamo la testa. Ma non è un ordine di scuderia. Perché Bastianini era libero di vincere. E anzi, il lavoro più grosso l'aveva già fatto perché era davanti. Aveva già superato Francesco. E perché Bestia non ha staccato Francesco quando era davanti? Perché probabilmente non ne aveva per andare via da solo. Punto. E perché ho detto che erano pronti con gli ordini di scuderia e che li stavano effettivamente discutendo? Bezzecchi. Se Bezzecchi avesse superato Quartararo, la vittoria del Gran Premio avrebbe regalato il campionato a Francesco. E a quel punto sì che avreste visto una tabella per Bastianini bella, grossa, chiara e inequivocabile. Ma non è mai arrivata. E inoltre, se ci fosse stato un ordine di scuderia del genere, avreste visto Bastianini spostarsi in maniera plateale, come farebbe qualsiasi pilota. Invece Francesco se l'è dovuta comunque sudare. In più, tutti a lamentarsi delle scene al box Ducati e per una volta che c'era qualcosa da vedere e capire, nessuno ha visto niente? Nessuno ha visto Dall'Igna che dice, aspetta, chiaro come il sole. Però questa evidentemente non si sposa con la teoria degli ordini e quindi è stata comodamente ignorata. Aspetta che poi? Aspetta Bezzecchi. Perché con Bezzecchi quarto si sarebbero imposti su Bastianini per niente. Serviva prima il sorpasso di Bezzecchi su Quartararo per il campionato. Sorpasso che non è mai arrivato e quindi non sono mai arrivati gli ordini. A proposito, perché Bezzecchi non ha superato Quartararo? Voglio dire, era così vicino. Guardate. Un secondo e tre, un secondo e uno, un secondo, otto decimi, mezzo secondo, poi tre decimi, appiccicato e... E poi il distacco è tornato a crescere. Cos'è? La Yamaha ha dato ordini di scuderia a Bezzecchi? Quella era una Ducati che non è riuscita a superare una Yamaha a Sepang. Cioè l'ennesima dimostrazione del fatto che in certe fasi della gara nulla è scontato. Non è scontato un sorpasso di una Ducati su una Yamaha, quindi figuratevi se è scontato quello di una Ducati su un'altra Ducati. Altra Ducati, quella di Francesco, che tra parentesi è quasi sempre quella che va più forte di tutte. Quindi bestia, voglia se ci ha provato. E comunque dopo la gara, davanti all'ennesima domanda a riguardo, Ciabatti ha preso anche la palla al balzo per fare una battuta e scimmiottare un po' chi li ha criticati. E ha detto, a Valencia ci saranno ordini di costruttore. E l'ordine sarà, una Ducati deve vincere. Questo perché Quartararo a Valencia può solo vincere la gara in combinazione a un Francesco dal quindicesimo posto in giù per vincere il mondiale. Quindi se vince una Ducati qualsiasi a Valencia, Francesco vincerà il titolo. Ecco spiegata la dichiarazione battutina. Tra parentesi questo il podio dell'anno scorso. L'highlight della gara di Sepang comunque è stata la partenza di Francesco. Roba spaziale. E poi basta. Fine. Ciao.